Cari amici di Game's Time, io sono Aldo E io sono il vostro amichevole Riccardo di quartiere Se state vedendo questo video vuol dire che ancora non siete iscritti al nostro canale E quindi questo comporta... Come non siete iscritti al nostro canale? Eh, non sono iscritti, vieni a me Ah, 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 ah Stop, 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 non ci siamo Direi che abbiamo sbagliato l'approccio Proviamo in un altro modo Benvenuti nella sede di Taranto di Game's Time Location dove faremo tutti i nostri video Vedrete tutti i giochi appena usciti Retro games, sfide 3, 4, 2, 4 Giochi dalla dubbia qualità e tanto tanto altro Ah, riesce a chi... ci pensa l'aquila Cosa sta succedendo? Quanto c'ha? Il pesto, guarda Cosa succede? E ne è sbattuto all'aria Tutto questo in compagnia della nostra squadra Composta da 7 elementi inconfondibili Io sono Aldo, il regista Colui che monti video del canale Tra una partita di FIFA e un'altra Lui è Riccardo L'esperto di videogiochi e di wrestling Non lasciatevi ingannare da quella sedia Non è poi così violento Lui invece è Fabio Il più anziano della brigata Gestisce il negozio Mentre compra su ebay con son retro Da aggiungere alla sua preziosa collezione Questo invece è Gino Co-proprietario del negozio Non lo si vede spesso davanti ad una console Ma i simulatori di guida sono la sua specialità Lui è Francesco L'esperto di Pokémon e dei giochi soul stargati from software Le sue imprecazioni sono riconosciute in tutto il negozio E questo essere invece è Daniele Meno lo quace di un muto E gioca solo su smartphone e console portatili Nel suo piccolo angolo solitario Per concludere c'è Manuel Le sue doti di cameraman sono molto limitate Ma è comunque nostro amico E quindi qualcosa dovevamo pur fargliela fare Questa è la nostra squadra E non vediamo l'ora di farvi divertire con i nostri video Ricordatevi di iscrivervi al canale Perché vedete i videogiochi come non li avete mai visti Grazie 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 Grazie